Come vi state relazionando con i ragazzi? Oggi l'associazione da sud compie 10 anni, è nata il 25 settembre del 2015 e per festeggiare questo decimo anno di attività abbiamo organizzato un festival, abbiamo lanciato il Restart Roma, il festival dell'antimafia e dei diritti, un festival sulla creatività anche nel mondo dell'antimafia. Abbiamo iniziato il 22 settembre inaugurando una mostra al Museo di Roma in Trastevere, si chiama Mac Mafia e racconta le mafie e l'antimafia a fumetti, sono più di 100 opere e saranno esposte al Museo di Roma in Trastevere fino all'8 novembre. Inoltre sempre dal 22 settembre abbiamo iniziato degli incontri nelle scuole, oggi siamo al Liceo Paster di Roma per raccontare con i ragazzi un pezzo delle nostre tematiche, quello sulle mafie e nell'ambiente, quindi per parlare di eco-mafie. Questa sera fino al 26-27 saremo alla Casa del Gets, inauguriamo un villaggio dei diritti, appunto con musica, teatro, concerti. Oggi alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione di questo villaggio con Laura Boldrini che premierà diverse personalità del mondo della cultura e non solo.